Si parla di cinema, si parla di fiction, bentornata al Castello Medioevale, qui a Castellammare. Anzitutto un pensiero su questa serata e su questo ritrovo tra colleghi, tra straordinari colleghi. Allora, è la prima volta che vengo qua e devo dire che è una location pazzesca, veramente bellissima, ho organizzato molto bene questo evento, questo galà, e quindi sono molto contenta di essere venuta, anche se arrivare da Milano non è stato proprio un attimo, però ne è valsa la pena. Sarai premiata questa sera? Un premio speciale Cinema e Moda. La moda cosa rappresenta per te, per un'attrice? È sempre importante, no? Che rapporto hai con la moda? È una compagna di vita, anche perché comunque la moda supporta da sempre il cinema, aiuta a creare magie e alchimie, e quindi credo che sia un piccolo dettaglio importante a creare una grande magia di un film, insomma. Anche perché come le grandi dive anche di un tempo, in te ritroviamo l'eleganza unita alla semplicità, possiamo sottolinearla questa cosa. Che carina, grazie! Non ci sarebbe stato il premio, poi avevamo una giuria di critici, tematografici. Grazie, grazie mille. E nel quotidiano invece cosa indosso? Quotidiano? Felpone, jeans, scarpe da tennis. Mi piace stare comoda, però sempre, insomma, con eleganza. Come sarà questo 2018-2019? Allora, di nuovo c'è che ho aperto una casa di produzione cinematografica, e quindi stiamo lavorando su dei progetti e l'estate del 2019 inizieremo le riprese del nostro primo film, come casa di produzione, che si chiama Silver Productions, e quindi, insomma, non vedo l'ora perché è un nuovo inizio, complementare a quello, insomma, del ruolo di attrice che, sì, crepi crepi, o anzi, viva il lupo!